allora abbiamo i cavi tante volte abbiamo parlato di mettere a posto cavi come si fa con i cavi eccetera e allora una volta ero lì e ho riflettuto sull'uso dei rotoli di carta igienica è molto analogica si si da quello che vediamo è molto effettivamente a guardarla e quindi quando finite la carta igienica non buttate i rotoli mi ha giocato il mio cane ah si e li morde tutti si gioca allora digli che con i tuoi passacavi e con i tuoi portacavi non può più giocare perché ti servono perché devi fare una scatola una bella scatola perché tu non potevi vedere una bella scatola da scarpe e poi zacco il rotolo di carta igienica che visti così però guarda che bello hai tutti i cavettini per quelle persone per quelli precisi dici cos'è che vuoi un cavetto da telefono che altro vuoi? perché ho una scatola così delle scarpe però ci sono tutti i cavi messi insieme ma mischiate invece in questo modo uno è un po' ossessivo cavo compulsivo e usa questa roba qua tac eccoci grazie grazie